Chiusi in maniera ermetica nella tana del Partenio Lombardi, i lupi di Walter Novellino si stanno ancora leccando le ferite per la scottante sconfitta di Bari. Lontano da occhi indiscreti, ma sotto lo sguardo attento e vigile dei soli dirigenti assiepati in sala stampa, il tecnico originario di Montemarano ha tenuto a rapporto il gruppo nel tentativo di farlo immediatamente sintonizzare sulla sfida di sabato contro la Salernitana. Nell'ultimo atto dell'anno al Partenio Lombardi, i biancoverdi avranno assolutamente bisogno di conquistare l'intera posta in palio per lasciare quanto prima un imbarazzante e preoccupante penultimo posto. Impresa non semplice per una squadra che da quando ha cambiato tecnico ha fatto registrare dei progressi nel gioco, ma paradossalmente ha raccolto un solo punto. Eppure contro Ascoli, Benevento e Bari, verde e compagni sono stati persino capaci di passare sempre in vantaggio. Ecco perché per sabato pomeriggio non sono affatto da escludere alcuni correttivi al 4-4-2 coniato da Novellino. Tra i pali il primo avvicendamento dovrebbe essere quello tra Frattali, apparso incerto al San Nicola in occasione delle reti di Fedele, e Radunovic. In difesa invece per Rotta potrebbe essere nuovamente preferito sull'out sinistro Adasma per il semplice fatto che, essendo più difensivista dell'Atalantino, potrebbe incrociare il pericoloso Rosina. Per il resto la linea Maginò si snoderà a lungo l'asse Gonzales, Gidai e Jim City. Una sola novità si profila anche in mediana, dove l'ASIC, da settimane scivolato in maniera malinconica in panchina, potrebbe affancare D'Angelo, rilevando l'acerbo Omeonga, che sta pure accusando qualche problema al piede per una botta rimediata al San Nicola. Ai loro lati, verde a destra e belloni a sinistra, appaiono inamovibili. Al pari del ritrovato Gigi Castaldo, che al San Nicola è tornato al gol, ma soprattutto a vestire i panni del leader di una squadra in grossa difficoltà. La certificazione è tutta nei numeri in rosso dei suoi bomber, dalle polveri bagnate. Ardemagni e Castaldo sono fermi a due sigilli, mentre Mokulu è addirittura secco. Proprio il congolese di passaporto belga, però, potrebbe essere la sorpresa contro la Salernitana, giocando al posto di un Ardemagni, tuttora alla ricerca di se stesso e del gol perduto.